Ok, per eseguire questo esercizio vi servirà uno slider o una superficie sulla quale scivolare. Posizionate una mano sopra lo slider e raggiungete la posizione di plank alto. Da qui seguiranno tre piegamenti con lo spostamento del braccio sopra lo slider nelle tre direzioni diverse. Quindi, laterale, obliquo superiore, Grazie a tutti.